Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella Sala San Francesco, luogo d'incontro con tanti figli spirituali, devoti, che venivano qui a San Giovanni Rotondo per incontrare Padre Pio. Tra questi ci sono anche dei frati. Infatti c'è una foto che vogliamo mostrarvi di un frate giovane che si inchina davanti a Padre Pio per baciargli la mano. Ripresa da questo testo, lo riconosciamo, c'è Padre Fraddonato, Fraddonato Ramolo, quindi c'è Padre Pio, quindi abbiamo Padre Alessio Parente e Padre Vittorio Massaro. In un testo che ecco ringraziamo e ne vogliamo approfittare per salutare, proprio di Fraddonato Ramolo che ci ha fatto dono di questo testo, Storia dell'amore di Dio nella mia vita. Un racconto di tutta la sua storia e all'interno non possiamo non andare a recuperare diversi episodi che riguardano la sua vita con quella di Padre Pio da Pietrelcina, come ad esempio questo momento, un momento importante del suo primo incontro con Padre Pio. Lui racconta, era il 1967, anno in cui mi trovavo ad Udine dove frequentavo il corso di infermiere all'ospedale, quindi ricordiamo che Fraddonato è stato missionario per tanti anni, quindi si preparava alla missione Io in Africa attraverso anche questo corso di infermiere. Venne a trovarmi Padre Giacinto D'Addario da Sant'Elia Pianisi che era il delegato provinciale dell'amministratore apostolico, Padre Clemente da Santa Maria in punta e io approfittando della sua venuta gli feci una richiesta vera e propria di andare da Padre Pio, di andare a San Giovanni Rotondo. Figlio mio, lui disse, io non posso darti questo permesso, perché? Perché, lo scrive anche Fraddonato nel suo libro, i frati cappuccini della provincia religiosa di Padre Pio, ai frati era, soprattutto agli studenti, era proibito incontrare Padre Pio, infatti molti frati non lo hanno neanche incontrato e tra questi ecco lo stesso Fraddonato è fortunato ad aver incontrato Padre Pio per poterli anche parlare e poi vedremo si confesserà anche da Padre Pio per i vari ordini restrittivi che arrivavano da Roma. Tuttavia lui disse, io ti faccio un biglietto che darai al Padre Guardiano di San Giovanni Rotondo se egli te lo permette bene, altrimenti tu dovrai accontentarti di vedere Padre Pio da lontano. Queste le parole di Padre Giacinto. Bene, lui aveva questo permesso che gli avrebbe comunque consentito l'opportunità di entrare in convento e come studente, insomma, cercare di vedere, almeno vedere Padre Pio. Intanto lui, Padre Giacinto, gli fece il biglietto di andata e ritorno per il treno. Mi diede il permesso, scrive, di prendere il treno rapido, essendo un treno di lusso. Chiaramente era proibito in forza del voto di povertà. A Bologna presi quello che veniva da Milano per Foggia. Una signora, vedendo un frate, mi seguì. Entrei in uno scompartimento e la donna dietro di me mi sedetti e lei disse, scusate Padre, posso sedermi vicino a voi? Certo, signore, il treno è di tutti, non è mio, rispose fraddonato. Dopo pochi istanti arrivò il controllore e siccome non avevo prenotato precedentemente il biglietto avrei dovuto pagare il supplemento rapido. Tuttavia io non avevo i soldi, quindi mi sentivo un po' imbarazzato. Non sapendo come e cosa fare, per fortuna, la signora subito mi disse, non si preoccupi Padre, ci penso io. E così ci penso lei col controllore. Ringraziai Dio, la signora, per questa provvidenza che mi aveva tolto questa grande difficoltà. Dopo aver pagato per me, la signora mi confidò. Padre, io ero scesa dal treno, ma quando ho visto che è salito lei, sono salita anch'io. Ora, se lei permette, vorrei farle una domanda. Dica, signora, lei conosce Padre Pio? Mi dica Padre, ma Padre Pio è un santo o un diavolo? Rimasi scosso, racconta Fraddonato a queste parole, le chiesi perché mi dice questo signora? E lei cominciò a raccontarmi tutta la sua storia dicendo che era di Milano, aveva un tumore maligno, non c'era più niente da fare, perciò mi hanno dimesso dall'ospedale per andare a morire a casa. Alcune amiche vedendomi a trovare mi insaputa, misero di nascosto delle reliquie di Padre Pio sotto il mio cuscino e pregavano Padre Pio per la mia guarigione. Fatto sta che io l'indomani ero completamente guarita. Ritorno in ospedale per una verifica, i medici rifecero gli esami, ma del tumore nessuna traccia. Le mie amiche mi dissero, vedi chi ti ha guarito, è questo, cioè l'immaginetta, la reliquia. È stato Padre Pio, vai almeno a ringraziarlo. Subito la signora voleva a tutti i costi incontrarlo, ringraziarlo. Arriva finalmente a San Giovanni Rotondo, il suo turno, si inginocchia, apre la porticina, Padre Pio e senza dirgli alcuna parola la caccia via. Scrive, io tutta umiliata mi alzai e me ne stavo andando quando mi si avvicinarono delle donne che mi chiamarono e che volevano interpretare i gesti di Padre Pio per confortarmi dicendo vedi che Padre Pio forse ti ha cacciata perché vuole che tu ti metti una gonna più lunga. Allora io mi reco in paese, compro una gonna più lunga fino a coprirmi tutta, mi rimetto in fila, mi confesso, arriva di nuovo il mio turno, mi inginocchio da Padre Pio e Padre Pio mi dice tu tieni la capa tosta, ho detto che te ne devi andare. Le stesse signore si avvicinarono di nuovo e mi dissero di nuovo di mettermi il velo in testa, io arrabbiata, dico a me stessa faccio anche questo, ma se mi manda via un'altra volta gli rispondo, vado in paese, compro tutto, mi ripresento per la terza volta da Padre Pio. Ebbene per la terza volta Padre Pio mi manda via. Allora io alterata grido, padre lei non può mandare via una penitente. Padre Pio allora scosta la tendina, mi guarda e comincia a dire ad alta voce tutti i miei peccati, tutti i peccati che non avevo confessato ma che lui conosceva. A questo punto per la vergogna, per l'umilazione, io arrabbiata me ne vato, riprendo il per Milano, facendo scalo da Bologna dove ho incontrato proprio lei fraddonato. Padre ora io vorrei chiederle ma perché Padre Pio mi ha cacciata? E fraddonato disse signora rispondendo con sincerità non conosco il motivo preciso, forse come lei stessa mi ha appena detto ciò che Padre Pio aveva letto nel suo cuore, credo che lei deve essere a darsi una risposta a questa domanda. Allora la signora mi raccontò tutta la storia dicendomi che era sposata, purtuttavia aveva un amante. Signora veda che questo può accadere ma ora che è stata da Padre Pio ha deciso di abbandonare questo stato di peccato? E le risponde purtroppo padre gli voglio ancora bene. Allora dissi, scrive fraddonato, signora io non so ma Padre Pio le ha salvata da un sacrilegio perché non si può ricevere un sacramento e rimanere nel peccato. Intanto mentre noi parlavamo eravamo arrivati a Rimini quindi la signora scende dopo avermi così ringraziato mi disse padre io scendo e torno a Milano se vado a Padre Pio chieda una benedizione per me. Fraddonato viene a San Giovanni di Otondo, riesce a raggiungere Padre Pio, vi racconteremo in un altro contesto come farà perché anche lì c'è qualcosa di straordinario da raccontarvi. Il fatto sta che lui al termine della confessione fraddonato chiede una benedizione oltre che per i genitori chiese una benedizione per quella donna e disse padre le chiedo una benedizione per una donna senza però dirgli che era stata cacciata da lui e quando dissi questo Padre Pio è come se si assentasse per un attimo e dopo abbozzò un sorriso e disse ah adesso sì che la benedico. Sicuramente scrive Fraddonato si era recato presso quella signora in bilocazione a Milano notando così il suo cambiamento dopo che si era incontrata con me aveva riconosciuto il suo peccato aveva preso la decisione di cambiare vita così le ha sorriso e la benedetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.